Ciao ragazzi, benvenuti ad un altro video del trappolone. In questo video volevo parlarvi di come arrotolare i cavi, ma soprattutto di come non arrotolare i cavi, se volete che i vostri cavi non si annodino e soprattutto che abbiano una vita più lunga possibile. Ora innanzitutto analizziamo un cavo e com'è composto. Un cavo microfonico in questo caso, ma il discorso che sto facendo vale un po' per tutti i cavi, poi ognuno avrà dei componenti diversi dentro, ovvero un numero di linee diverse, ma il concetto è sempre lo stesso, ovvero che dentro un cavo che sia bilanciato o sbilanciato abbiamo dei conduttori in rame che avranno i loro isolamenti, quindi dei conduttori in rame che per non toccare, per non stare in corto, saranno circondati da un rivestimento di gomma e poi intorno a questi connettori una maglia o una spirale di rame che chiaramente rappresenta la schermatura. E questi conduttori, tre quando si parla di un cavo bilanciato, due quando si parla di un cavo sbilanciato, chiaramente viaggiano per tutto il cavo intrecciati. Ovviamente se noi cominciamo a smanettare troppo questo cavo, a piegarlo troppo, a torcerlo troppo, tutto il rame che si trova dentro il cavo si comincia a rovinare e quindi la performance del cavo diminuisce sempre di più. E all'inizio diventando più rumoroso perché chiaramente la schermatura peggiora, perché chiaramente la schermatura ha il compito di isolare i nostri conduttori che trasportano il suono da tutte le interferenze esterne. Infatti, come ho già detto, molto spesso è una maglia oppure una spirale che avvolge il cavo dall'inizio alla fine. E oltretutto tutte queste linee, che sono due quando si parla di un cavo sbilanciato e che sono tre quando si parla di un cavo microfonico, appunto un XLR e un TRS, arrivano alla fine a toccare il connettore tramite la saldatura. Quindi se noi andiamo a piccare una torsione troppe volte, chiaramente a prescindere dalla qualità del nostro cavo, prima o poi il nostro cavo ci saluterà e dovremo ripararlo. Allora, a modi per non arrotolare un cavo, la cosa più brutta che vedo fare, soprattutto nei live, nei service, è questa qua. Quella di mettere il braccio a arrotolare, questo è proprio un invito alla morte del cavo. Per quale motivo? Perché noi non solo stiamo applicando una torsione, visto che giriamo il cavo sempre nella stessa direzione, e quindi equivale a fare questo alla lunga, ma anche il fatto che stiamo forzando il nostro cavo contro il nostro pollice e contro il nostro gomito, e quindi stiamo praticamente strozzandolo e gli stiamo applicando anche una trazione che piano piano porterà il cavo a disgregarsi, sia nel punto in cui mettiamo il gomito, ma anche dove teniamo il connettore, quindi sulla saldatura, che è il punto più delicato, chiaramente. Ora, il modo giusto per arrotolare un cavo è chiamato over and under, sopra e sotto, che diciamo noi italiani chiamiamo anche metodo all'inglese. Come si fa questa cosa? Allora, ricordiamo sempre che un cavo ha la sua memoria, quindi quando provate a fare questa cosa la prima volta, se il vostro cavo è sempre stato arrotolato male, sicuramente sarà un po' difficile, perché non avrà la piega, ma una volta che voi abituate il vostro cavo ad avere quella piega, verrà quasi in automatico piegarlo in questo modo. Quindi, allora, io per esempio faccio così, parto sempre dal connettore maschio, quindi quello che ha i tre pin uscenti, lo prendo e cosa faccio? Allora, la prima spira, quindi il primo avvolgimento, lo faccio girando le mie dita in senso orario, e se faccio questa cosa, questo è il movimento che esce fuori, quindi ci vado da sopra. La seconda volta, invece, giro il mio polso, i miei polpastrelli in senso anti-orario, vedete che ci vado da sotto, quindi una spira in senso opposto, e quindi in pratica stiamo riavvolgendo il nostro cavo come se fosse una molla. All'inizio è difficile, però se fate un po' di esercizio, poi vi esce spontaneo. Se vedete che il cavo non fa in automatico questa cosa, chiaramente un po' è perché non ha la piega, ma magari voi lo stendete un po', e in questo modo diventa molto più semplice, perché vi asseconda un po' di più. Vedete, adesso non è uscito proprio perfetto, perché sto guardando anche la camera mentre lo faccio e farvelo vedere bene, però lo rifaccio in maniera un po' più disinvolta. Spire non troppo strette. Quindi, ecco cavo rifatto, e oltretutto la cosa bella è che quando voi aprite un cavo fatto bene, non vi si fa nessun nodo, potete anche lanciarlo tenendo il connettore da cui siete partiti, e vedete che il nodo comunque, non si fa nessun nodo, il cavo si stenderà in maniera super dritta, senza alcun problema, e soprattutto la cosa bella di questo metodo è che, siccome voi avete fatto questa cosa, cioè una volta in un modo e una volta in un altro, è come se aveste mantenuto il cavo dritto in un certo senso, perché, per esempio, molti fanno il cavo in questo modo, andando sempre nello stesso verso. Questo chiaramente non è sbagliatissimo, però è come se state girando il cavo sempre dalla stessa parte, e quindi questo equivale ad applicare una torsione. Invece, se noi facciamo questo, andiamo in un senso, poi andiamo nel senso opposto, andiamo nel senso di prima, poi andiamo nel senso opposto, riandiamo nel senso di prima, poi andiamo nel senso opposto, vedete che in questo modo il risultante della torsione che abbiamo applicato al cavo è zero, perché una volta andiamo in un senso, una volta in un altro, quindi è come se non l'abbiamo mai torto. E quindi questo per me è il modo giusto su come rifare un cavo. Ovviamente, quando lo andate ad aprire, vi dovete ricordare da che connettore siete partiti, sennò qualche nodo rischiate si fa, perché sennò si incrociano i connettori, quindi io sono partito dal maschio, so che il maschio deve stare da questa parte, e che la femmina deve stare da questa parte, lo apro, zero nodi. E così, adesso lo faccio velocemente, perché dopo un po' vi verrà velocemente. E poi, un altro consiglio che vi do, non mettete mai niente per chiudere il cavo, perché sennò andate a stridolarlo, vi fate un attaccapanni come ho fatto io, e quando avete finito, ci mettete tutti i cavi che non utilizzate. Utilizzo questo metodo da più di dieci anni e non mi si è mai rotto un cavo negli ultimi dieci anni che lo utilizzo. Fatemi sapere nei commenti, voi, come riavvolgete i vostri cavi, se lo facevate in questa maniera, oppure nel modo sbagliato. Oltretutto, se siete nuovi da queste parti, vi consiglio di dare un'occhiata nei link in descrizione, in cui troverete un sacco di materiale gratuito per migliorare le vostre produzioni, un ebook, una lezione di 40 minuti. Troverete anche il link al mio Patreon, nel caso vogliate accesso esclusivo a un sacco di contenuti in cui vi insegno a mixare, a produrre musica in maniera super professionale. Detto questo, io vi invito a mettere like al video, a iscrivervi al canale se lo avete già fatto. Direi che per oggi è tutto. Love.